Iniziamo con il question time oggetto numero 7, risponde la Presidente Tesei, interroga L'interrogazione è come oggetto per l'appunto la Cassa di risparmio di Orvieto, faccio una brevissima storia per chi non la conosce La Cassa di risparmio di Orvieto è detenuta dalla Banca Popolare di Bari, che come noto sta vivendo una situazione abbastanza complessa Al centro di un'azione di ristrutturazione e di rilancio con provvedimenti normativi che sono intervenuti da parte del MEF e della Banca d'Italia Non sarà sfuggito anche il percorso doloroso che ha preceduto l'avvio della procedura concorsuale che ha coinvolto la Banca Popolare di Bari Oltre che anche alcuni provvedimenti amministrativi e iniziative giudiziarie Ad oggi l'asse della Cassa di risparmio di Orvieto ci risulta, è noto, che non è nel progetto del piano industriale della futura Banca Popolare di Bari E per fortuna la Cassa di risparmio di Orvieto non è interessata dai numerosi tagli di personale e di filiali che i sindacati hanno dovuto accettare nel progetto di ristrutturazione della Popolare Parliamo per quanto riguarda la Popolare di 650 esuberi in 10 anni e 92 filiali Il rischio per la Cassa di risparmio di Orvieto, se non si trovasse un acquirente alla quota della Banca Popolare di Bari Di avere lo stesso ben servito è decisamente da scongiurare E' per questo che abbiamo acceso i riflettori su questa situazione Credo noto agli Umbri che la Cassa di risparmio di Orvieto è di fatto rimasta ad oggi l'unica, oserei dire, banca del territorio Dopo la fusione che ha coinvolto anche le casse di credito cooperative La Cassa di risparmio di Orvieto in Umbria ha 50 filiali, 2,5 miliardi di euro tra raccolta ed impieghi E nonostante la fusione con la Popolare un bilancio che oggi possiamo definire sano Il percorso che ha coinvolto la Popolare, se da un lato non pone a rischio i correntisti Per quanto riguarda le giacenze Non si può dire altrettanto per tutti quegli sparmiatori che hanno investito nella Popolare di Bari Abbiamo letto dalla cronaca che a fine giugno c'è stata l'Assemblea Soci della Popolare Per la trasformazione della stessa in società per azioni L'intervento di medio credito centrale che subentra nella proprietà Ad oggi di fatto la situazione della Cassa di risparmio di Orvieto È legata a un progetto industriale che eventuali acquirenti potessero subentrare Per ridare la Cassa di risparmio di Orvieto al territorio Noi parliamo di una banca che è fortemente fidelizzata con il territorio, con la città Con molti dipendenti che hanno continuato ad operare anche in un clima di forte indecisione È ovvio che, e per questo pongo la questione oggi in quest'Aula Ritenendo che alla politica non competa entrare nel merito delle scelte industriali E di conseguenza se, e come ci auspichiamo, la Cassa di risparmio di Orvieto Vedrà un'offerta da parte di pool di imprenditori, locali o non locali Questo sarà ovviamente legato alle scelte del MEF Però è altrettanto ovvio che alla politica competa invece orientare i processi Affinché le scelte abbiano come primo obiettivo lo sviluppo della banca locale La Cassa di risparmio di Orvieto, la sua ricchezza, il suo patrimonio, le sue dotazioni di risparmio I dipendenti sono un valore per tutta quella comunità E quindi ci auguriamo che a fronte di un progetto industriale innovativo L'Istituto possa rimanere sul territorio Per questi motivi chiedo alla Presidente Tesei se e in che modo si può attivare Intende attivare per vigilare nel merito rispetto al percorso in atto Ci risulta che ci sono gruppi di investitori Tempo consigliere, già 4 minuti Che si stanno interessando al percorso L'auspicio è che gli investitori possano operare di concerto con le istituzioni locali Con il MEF e con le autorità di garanzia Per il futuro della Cassa di risparmio di Orvieto E l'auspicio è che la Regione possa accompagnare questo percorso Affinché le esigenze della comunità Umbra Dei tanti azionisti e dei piccoli risparmiatori che oggi sono coinvolti nel percorso Ivi comprese anche i dipendenti che aspettano risposte da parte dell'esito del percorso industriale Possano essere soddisfatti e possiamo continuare come Regione A rendere merito di una banca Ponsigliere, lei ha doppiato un tempo di replica e di illustrazione Scusi, però è 3 minuti con la replica, 5 minuti Presidente Tesei Sì, grazie Rispondo proprio personalmente a questa interrogazione Per l'importanza che naturalmente riveste nel panorama regionale Proprio per il futuro della nostra Regione Anche questa problematica E anche nella consapevolezza che questi problemi e queste problematiche Vadano affrontate proprio nella sostanziale unità di intenti della classe politica regionale Che si deve comunque unire alle istituzioni che, in questo caso la Regione Che si occupano anche di questa vicenda Proprio per l'importanza strategica che il sistema bancario ha per la nostra Regione Io, naturalmente, noi come Regione non ci siamo sottratti Né ci sottrarremo a tutto ciò che riguarda un argomento così importante Come questo di Cario il Vieto Non lo abbiamo fatto e non lo faremo come adesso che ci stiamo occupando Della questione AST, così, della questione della Banca di Orvieto Seppure hanno natura di carattere privatistico Perché questo è un elemento sicuramente non trascurabile Ora, l'interrogante ha già descritto nell'interrogazione L'importanza che riveste per la nostra Regione, cari Orvieto Ma io credo che sia importante che quest'Aula conosca anche dei numeri Significativamente importanti a livello generale bancario E della situazione della nostra Regione Nel 2013 gli impieghi, ossia i prestiti a famiglie e imprese In Umbria erano di 20 miliardi Oggi, dopo sette anni, sono 17 miliardi, meno il 15% Nel 2013 i depositi in Umbria erano 14,6 miliardi Oggi, dopo sette anni, sono 17 miliardi, più il 15% Questi dati ci devono far riflettere su un argomento importantissimo Che cosa è successo in questo periodo? È successo in questo periodo che le banche naturalmente si sono fortificate Si sono riequilibrate completamente dal punto di vista degli impieghi e della raccolta Quindi limitando i rischi sicuro Ma nel contempo, in questi anni, si è tolto ossigeno alle nostre imprese E questo sicuramente non è in genere per colpa di un sistema bancario Ma per il fatto che purtroppo sono sparite dall'orizzonte regionale Le banche territoriali, che invece hanno un ruolo molto molto importante Perché anche quelle esistenti oggi sono controllate da grandi gruppi Quando si è verificato il crack di Banca Popolare di Bari Abbiamo intravisto per cari orvieto la possibilità di tornare ad essere una piccola banca territoriale E è stato interesse subito e immediato di questa Presidenza Di intervenire, interagire e conoscere Abbiamo però naturalmente voluto seguire le vie istituzionali Quelle corrette e coerenti Che specialmente in argomenti di questo genere Presuppongono correttezza dei percorsi istituzionali Riservatezza su dei momenti che sono particolarmente delicati Anche per possibili investitori e possibili gruppi interessati E lo abbiamo fatto nei livelli giusti e coerenti che il momento richiedeva Prima del Covid ci siamo incontrati Mi sono incontrata con Cario Orvieto e la sua dirigenza con la fondazione Con i sindacati e con Banca d'Italia ai massimi livelli Di questi colloqui naturalmente che erano iniziali Quello che posso dire a quest'aula è che abbiamo richiesto di essere naturalmente Non sono consultati, informati, cosa che sto ancora portando avanti Naturalmente il periodo del Covid ha come tutte le cose Purtroppo per la situazione che si è venuta a verificare Sospeso in pratica questa interlocuzione Che comunque a livello di conoscenze è rimasto assolutamente intatto E proseguirà anche per il futuro Il rapporto con Banca d'Italia devo dire che è stato molto proficuo Perché la nostra prospettazione dell'esigenza di tutelare questa banca del territorio È stata completamente presa in considerazione Ora si guarda con interesse e apprezzamento Al potenziale scorporo proprio di Cario Orvieto dal gruppo popolare di Bari E naturalmente però è necessario avere a mente e non trascurare Che bisogna che questo scorporo presupponga mezzi finanziari forti Ma anche un piano industriale e di banca assicurazione credibile Ritenendo appunto fondamentale per le ragioni che ho illustrato prima Che ci sia e si mantenga una banca del territorio vicino alle nostre imprese Per cui sarà fondamentale trovare naturalmente un partner bancario industriale Nella fase 3 del Covid appena iniziata abbiamo notizia di alcuni interessamenti Per questo tipo di operazione Che però necessariamente dovranno essere sostanziati in una proposta seria e credibile Come prima cosa poi sottoposti ai commissari e all'autorità di vigilanza Ora l'auspicio mio e che credo debba essere quello di tutta la classe politica Umbra È di individuare al più presto un progetto credibile che restituisca autonomia alla Cario Orvieto Solidità alla banca ricostituita Efficacia di intervento al fianco delle nostre imprese e delle famiglie Innovatività di azione nella salvaguardia dei livelli occupazionali Ora su questi temi che credo che debbano essere comuni Io auspico e anzi chiedo proprio la condivisione e il supporto di questo percorso da parte di tutta la classe politica regionale Nessuna esclusa perché è nell'interesse veramente della nostra regione Grazie Grazie Presidente Ringrazio la Presidente per la risposta L'auspicio che la Presidente ha rivolto a quest'Aula lo faccio mio Credo che tutto il Consiglio regionale debba impegnarsi affinché il lavoro condotto dalla Presidente sia il lavoro di tutte le istituzioni regionali A quest'Aula non compete conoscere i dettagli dei percorsi industriali Qualora anche la Presidente li conosca è ovvio che vanno tenuti in debito dettaglio e in debito segreto istruttorio Quest'Aula compete e quindi l'auspicio che rinnova la Presidente e che ce l'ha confermato oggi È che il percorso industriale possa rimanere sul territorio Questo è il valore più importante sul quale la politica tutta regionale e anche credo di Orvieto e di tutta la comunità locale debba avere come riferimento e quindi la invito e in questo la ringrazio per il processo che potrà governare e presumo che spero avrà da noi da questo punto di vista il nostro supporto Grazie Perfetto Quella dopo è oggetto numero 10 Ci risponde Coletto Interroga Bianconi, Bori De Luca, nuovo piano sanitario regionale Documento da parte della Giunta a garanzia della sanità pubblica in tutto il territorio dell'Umbra Interroga Bianconi Grazie Presidente Un saluto a tutti i colleghi che sono in quest'Aula Anche questa mattina ho ascoltato la voce dei lavoratori dei lavoratori del sistema sanitario Umbro che erano qui fuori rappresentati dalle sigle sindacali della CGL, dalla CISL e dalla UUIL Da mesi chiedono un confronto per capire come sarà riorganizzata la nostra sanità regionale Occorre valorizzare la sanità pubblica, i lavoratori e andare incontro alle esigenze dei cittadini nei fatti Occorre che non ci sia più un'Umbria di serie A e un'Umbria di serie B Anche per quanto riguarda la sanità Occorre che gli interventi, anche quelli del primo soccorso, siano garantiti anche nelle zone più remote della nostra regione E non si può operare soltanto con logiche di bilancio Che è importante, certamente, ma mi auguro che nel prossimo piano Che lei, Assessore, insieme alla Giunta dovrete varare Beh, ci siano questo tipo di attenzioni Lei, Assessore, ha un'opportunità incredibile L'opportunità di poter gestire risorse che mai nessuno prima ha avuto a disposizione Per riorganizzare il nostro sistema sanitario E questa è un'opportunità in un momento come questo In cui ci apriamo ad affrontare nuove problematiche Come quella appena vissuta del Covid Che non ci possiamo far sfuggire I lavoratori che sono lì fuori chiedono questo I cittadini chiedono questo Il piano di riorganizzazione del sistema sanitario È il primo mattone sul quale riorganizzare l'Umbria Un'Umbria che vuole andare verso il futuro con efficienza ed efficacia Su questo lei aveva parlato in qualche sua intervista Di un'apertura al confronto E quindi io le chiedo in questa interrogazione Se questo confronto lei l'ha già avuto Quali sono state le istanze che le sono state rappresentate Quali di queste sono state raccolte e quale respinte Piuttosto che fare interventi come sono successi Non solo in questi ultimi mesi ma negli ultimi anni Interventi a difesa di quello dell'altro ospedale Credo che sia prima di tutto importante capire e conoscere Qual è la vostra filosofia strategica per costruire Una nuova offerta sanitaria per la nostra regione E da qui poi possono partire i ragionamenti puntuali Sulle vale destinazioni Ecco credo io come i lavoratori che sono fuori E gli altri firmatari di questa mozione Che sono il consigliere Bori Il capogruppo Bori Il capogruppo De Luca Ecco questo credo sia la risposta principale Alla quale noi speriamo di arrivare con qui oggi Già per fare un passo avanti Grazie Assessore Grazie Consigliere Assessore Coletto Grazie Presidente Diciamo che l'interrogazione è assolutamente centrata Rispetto a quello che deve fare un'amministrazione regionale Per quanto riguarda la sanità Diciamo che ai sensi del titolo quinto La programmazione è uno degli ambiti fondamentali ed importanti Per un'amministrazione regionale Perché pianificare significa andare a gestire Andare come dire a collocare al punto giusto Quelli che sono i servizi e le necessità della regione Ma soprattutto dei cittadini della regione Umbria Per cui io credo che il percorso che stiamo affrontando Lo stiamo affrontando attraverso una prima fotografia Che noi chiamiamo libro bianco Una fotografia che andrà a verificare quelli che sono i flussi Andrà a verificare quella che è la situazione della sanità Umbra Andrà a verificare quelle che sono le strutture sul territorio Ne trarrà le debite e conseguenze Per poi successivamente incontrare i vari stakeholders Perché evidentemente i portatori di interessi Che sono sindacati, che sono i cittadini in generale Dovranno come dire esternare quelle che sono le necessità Per poi riportarle nella pianificazione Pianificare significa fare un vestito su misura Vestito su misura perché evidentemente dal 2011 Cioè dalla data dell'ultima pianificazione della regione dell'Umbria Ad oggi le situazioni sono cambiate Hanno bisogno di essere revisionate Fortunatamente c'è stata anche un'evoluzione molto importante Dal punto di vista scientifico Quindi del tipo di intervento Quindi c'è stata un'evoluzione anche Nell'ambito della gestione degli interventi Tanti interventi sono stati declassati Fra virgolette ad ambulatoriali Da che c'erano i ricoveri Lei citava le logiche di bilancio Sono logiche importanti le logiche di bilancio Prima naturalmente vengono le logiche di cura dei cittadini Successivamente vengono le logiche di bilancio Che sono dettate dal governo Non è che la regione Umbria Si diverta fra virgolette a porsi dei limiti Nella gestione pubblica di quella che è la sanità Sono logiche di bilancio Che se infrante Che se sforate Portano inevitabilmente A un piano di rientro E successivamente a quella che si chiama Addizionale IRPEF Per quanto riguarda le stabilizzazioni Che è stato un altro passaggio toccato Noi abbiamo stabilizzato Tutto quello che Diciamo era possibile stabilizzare Ai sensi della Madia Naturalmente qua fuori ci sono i lavoratori Li ho incontrati Li ho parlato Sono i lavoratori di Umbria Salute Vedremo di trovare delle soluzioni Nei limiti delle norme naturalmente Perché la sanità ha sì bisogno di lavoratori Ma ha anche bisogno di una pianificazione Che viene fatta, ripeto Su quello che è un libro bianco Una fotografia dell'attualità Vorrei sottolineare un altro aspetto Nessuno ha intenzione o voglia di privatizzare E questo non lo dico io Lo dice il mio passato Se andate a vedere Quello che è stato fatto In Veneto Vi accorgerete Che non c'è stata nessuna evoluzione Verso la sanità privata Ma piuttosto c'è stato un rafforzamento Verso la sanità pubblica E nostra intenzione È rafforzare ulteriormente La sanità pubblica E a portare a termine Un nuovo piano sociosanitario Che evidentemente Al di là di quelli che sono i tempi Che dovranno essere dedicati Al libro bianco Che presumibilmente Vedrà la luce Ai primi di settembre Nei primi mesi del 2021 Presumibilmente Covid permettendo Perché non sappiamo Come ci sarà E se ci sarà Un'evoluzione Nell'ambito del Covid Potremmo preadottare Anche il nuovo piano sociosanitario Grazie Consigliere Bianconi Per la replica Grazie Grazie Vicepresidente Grazie Assessore Per quanto detto La nostra preoccupazione Che rappresentiamo sempre In quest'Aula Rispetto alla privatizzazione È collegata A tanti messaggi A tante cose dette Ma anche alle linee guida Che avete voi rappresentato Quando eravate Al governo Mettendolo al centro Della vostra azione Quindi su questo A me fa piacere Sentirla Sentirla Suonare Ecco Una musica Una musica diversa La musica di cui Questa regione Ha bisogno Una sanità regionale Che ha dimostrato Grazie al sacrificio Dei tanti Lavoratori Del sistema sanitario Di essere efficiente L'abbiamo definiti Eroi Ecco A questi eroi Oggi dobbiamo dare Più degnità E quantomeno Fargli capire meglio Qual è il disegno strategico Verso il prossimo Futuro Mi sarei aspettato Qualche risposta Un po' più puntuale Sugli incontri Fatti Se li avete già fatti Perché un po' di mesi No Ok Un po' di mesi Sono Sono passati Mi auguro che tra i soggetti Che lei Incontrerà Assessore Ci possa mettere Anche I rappresentanti Della minoranza Di quest'Aula Perché crediamo Di poter rappresentare E raccontare Anche Le nostre esperienze E le esperienze Che ci vengono Trasmesse Dai tanti cittadini Con i quali Siamo in contatto Grazie Grazie Consigliere Bianconi Oggetto numero 12 Stato del liter Di approvazione Delle norme Regolamentari Necessarie Per il riconoscimento Dei negozi storici Interroga Il consigliere Mancini Risponde L'assessore Fioroni Tanto faccio I complimenti Alla nostra Presidente Per il bellissimo risultato Che abbiamo visto Nei giornali Anche stamani Quindi avanti Così La squadra Sta lavorando E ne siamo contenti Quindi complimenti A lei Presidente Alla Giunta E al Consiglio regionale Quando si lavora bene Poi i risultati Arrivano Allora Questo atto Ha il carattere Assessore Di fare riferimento A un quadro normativo Come lei Può leggere Nel dispositivo Mi riferisco All'articolo 21 Alla definizione Alla definizione Di negozio storico La faccio molto breve Naturalmente Si inserisce Tutto Quest'articolo Nel testo unico Del commercio Sa benissimo Che la nostra regione Assessore Ha una potenzialità In questo In questo ambito Da valorizzare Ed è comunque Già presente Quindi noi chiediamo Lei Assessore Se risulta oggi Così come prevedeva La legge L'estensione Di un regolamento Per portare E definire Le caratteristiche Di questo Tipo di negozi Quindi Non vorrei Perché io ho fatto Una ricerca Assessore Che sia Siamo di fronte All'ennesimo Articolo Di grande valore Quindi grazie A chi a quel momento Lo ha pensato E poi Lo ha votato Ma che poi Alla fine Manca sostanzialmente Delle gambe Quindi le chiedo Di renderci conto Di questo tipo Di tipologia Di attività E se oggi Risulta essere In esercizio Il regolamento Per lo meno A livello Amministrativo Questa giunta Abbia intenzione Di redigerlo Nel più breve tempo Possibile Grazie Buongiorno Buongiorno Presidente Consigliere Mancini Il tema Che lei solleva È un tema Importante Che assume Un valore Ancora più forte In un territorio In cui la tradizione Rappresenta Sicuramente Un tratto Distintivo I negozi Storici Le botteghe Storiche Sono Quel tipo Di tessuto Che Hanno un ruolo Fondamentale Nell'impianto Narrativo Del territorio Raccontano La tipicità Raccontano La storicità E raccontano Un modo Anche antico Di fare Commercio Un modo Che antico Non vuol dire Che non possa Sposarsi Con la modernità Ahimè Il regolamento Per la disciplina Dei negozi Storici Che è Già attivo Invece In altre regioni Cito il caso Della Lombardia Dove Addirittura Nel momento In cui Spesso c'è un criterio Temporale Che viene utilizzato Per far considerare Un negozio storico Quello ad esempio Dei 50 anni Continuativa Di attività Senza che Vengono effettuate Al negozio Modifiche Sostanziali Né in ambito Architettonico Se non per gli Adeguamenti Minimi Necessari Dalle tecnologie Tanto per capirci Normative igieniche Sanitarie Piuttosto Che registrazioni Di cassa Addirittura La Camera Di commercio Di Milano Fa ogni anno Una cerimonia In cui vengono Premiati I negozi Che acquisiscono Quello status Di storicità Perché? Perché contribuiscono A rafforzare L'identità Territoriale Come sistema D'offerta Commerciale E in un momento Di difficoltà Come queste Rappresentano Anche un elemento Di tenuto Di tenuta Importante Del commercio Per quanto riguarda La precedente La precedente Legislatura Era stata Redatta Una bozza Di regolamento A mio avviso Anche Piuttosto Condivisibile Che andava a definire I criteri Sulla base De quali Veniva considerato Un negozio storico In base ai quali Laddove modificati Si perdeva Il carattere Della storicità Era stato Tenuto Una partecipazione Di questo Regolamento Con le principali Associazioni di categoria Legate al commercio E all'artigianato Ma Questo regolamento A seguito Delle note Vicende Con cui si era Chiusa La precedente Legislatura Non era mai Stato Portato avanti Non oltre Quella forza Di partecipazione Quindi Ritengo che sia Un qualcosa Da riattivare Velocemente Il regolamento C'è È pronto E quindi Posso assicurare Che verrà Rimesso In carreggiata Riprenderemo Magari Interlocuzione Con l'associazione Di categorie Per poi Portarle O fargli seguire Le strade Amministrative Necessarie Per l'implementazione Trattandosi Di una modifica Del testo unico Del commercio Grazie Per la Grazie Assessore Io le faccio Una proposta Che lei Sicuramente Vaglierà Spero in senso positivo La nostra commissione Per la seconda È competente Ovviamente Per urbanistica E ovviamente Commercio Qui siamo Un po' A convoggere Queste due Importanti materie Perché L'articolo 4 Il comma 4 Parlò L'articolo 21 Demanda appunto Alla giunta L'obbligo Di questo regolamento Però Si parla Che i negozi Storici Debbano avere Alcuni requisiti Fin anche Gli arredi Le architetture Ora Noi stiamo Lavorando Come lei saprà Abbiamo già Come Come commissione Lavorato Ad alcune modifiche Della legge Del terremoto L'abbiamo fatto Partendo ovviamente Da audizioni Che sono venute Come richieste Dal basso E penso Che questa commissione Quando ovviamente I suoi uffici Quindi il suo ufficio Avrà redatto Questo regolamento Lo voglia Ovviamente Abbiamo creato enormemente La pratica Dell'e-commerce Questo Chiaramente Premette Di raggiungere In ogni luogo La qualità Che l'Umbria Può Mettere a disposizione Sul mercato E quindi Raggiungerla Dai consumatori Penso che Un buon regolamento Debba contenere Anche queste possibilità Perché il negozio storico Non è solo Gli arredi I 50 anni E le tradizioni Di grande Valore Manuale Culturale Che si esprime Nei prodotti Ma è anche qualcosa Di più È un portare L'immagine Dell'Umbria In luoghi Che normalmente Non sarebbero Raggiungibili Lei sa benissimo Abbiamo avviato Grazie alla sua collaborazione Importante Interlocuzione Che avremo occasione Di approfondire Anche davanti a questa Allora Quindi confido Che lei Condivida con noi Questo importante Regolamento E grazie